Come è quando è iniziato il problema dello sgombero di questa famiglia? Questo è un problema che è nato dal momento in cui il tribunale di Cava di Tirreni è stato accorpato a Nocera e quindi a Nocera è partito un indirizzo particolare in ordine agli abusivismi che fa solo Nocera, per esempio in Campania non si verifica questo fenomeno, neanche a Salerno non viene fatto però è una questione di diritto rispettabilissima con magistrati che fanno il proprio dovere e che la pensano in un certo modo e questo è il processo, c'è un'accusa, c'è una difesa e c'è un giudice che poi deve dire chi ha ragione e chi ha torto. Gli abbattimenti non sono facili da fare, Cava ne ha avuti tre o quattro, in Campania ce ne sono stati anche altri però non ci sono i fondi, non c'è la possibilità economica, materiale per affrontare un problema e risolverli in questo modo qua, che è una risoluzione che non è certamente troppo condivisibile soprattutto forse può rientrare nel codice penale, processuale penale, ma non va nel codice del cuore diceva mio maestro De Marsi che ci sono due codici, c'è il codice dello Stato e poi c'è un codice che è quello del cuore e delle problematiche qui non abbiamo a che fare con criminali, delinquenti, mafiosi abbiamo a che fare con povera gente che senza chiedere nulla allo Stato che niente dà a questa povera gente, hanno necessità, questa è la parola queste sono costruzioni abusive, sì è un reato certamente ma è come il furto per chi vuole mangiare, è un furto sì ma lo fa perché vuole mangiare e questo abusivismo che è di necessità della povera gente che voleva un tetto per sé per i propri genitori come il caso di cui io mi occupo come avvocato non come politico, io faccio l'avvocato, non faccio il politico questa vicenda non lo sono neanche, non ho cariche istituzionali, sto fuori un poco amareggiato non so neanche se rientrerò un giorno, non mi interessa, io sono nato avvocato e sto difendendo come può difendere un avvocato con i denti e con le unghie un problematico che ha a cuore perché la povera gente non può essere trattata in questo modo anche se dicevano i romani la legge è dura ma è la legge e la legge si applica e chi è rappresentante e tutore della legge non può non farla rispettare io non contesto niente, non contesto le forze dell'ordine, non contesto i magistrati faccio una questione di diritto poiché c'è un valente magistrato un procuratore della Repubblica di Nocera che ha visto questa tesi che poi è una tesi non infondata e dice se c'è un sequestro di una casa quindi un reato in atto, se c'è un abuso quindi un reato in atto può stare dentro casa chi ha commesso il delitto continuando a commettere il delitto questo diciamo è la tesi, quindi va sgombrato, va cacciato fuori e va cacciato fuori anche il mobilio e va liberata la casa ma per darla a chi? Chi ci mette dentro? Un problema di coscienza, dunque un caso umano? A parte che è un caso umano, ma il problema poi diventa di questo tipo qua ma una volta che tu hai buttato fuori non solo queste 5, 6, 7 persone che fanno parte e bisogna trovare dove metterle, dove sistemarle e non sono 5, 6, Cava sono 2.200 e passa per cui 5 persone, minimo ma sono molte di più moltiplicato, sono 10.000 persone, in Campania sono 350.000 persone 3 volte, 4 volte Salerno, 10-15 volte Cava dei Tirreni e beh lo Stato lo deve pensare a questa soluzione del problema quando succede un terremoto che cosa accade? Si mettono i prefabbricati, le tende, le tendopoli, le menze e compagnia bella poi si fanno le case per i terremotati questo è un terremoto che supera il decimo grado della scala Mercalli questo capiterà se dovessero applicare in toto quello che dice la legge dura e cioè abbattimento perché se tu mi tieni queste case che stanno a rischio idrogeologico e ti preoccupi del fatto che c'è il pericolo per cui tu mi sgombri e me la abbatti e tu mi devi dire anche e quelle condonate che stanno a confine e che sono tantissime e il centro abitato che sta in zona a rischio perché la Campania è tutta a rischio Cava è tutta a rischio devi abbattere tutto allora ma non è possibile perché se viene la frana e facciamo i debiti scongiure la frana non è che poi si ferma davanti alla casa condonata mica dici questo è condonato ora vado a destra evito vado a prendere solo quella non condonata mi fermo c'è il centro abitato quando arrivano le frane non guardano in faccia nessuno per quanto riguarda la questione dello sgombero abbiamo rivolto a Luigi Di Domenico che è responsabile di un'associazione del territorio quale appello vorrebbe fare ai politici sia a livello locale che a livello nazionale io sicuramente il mio appello alle istituzioni è quello di fare prestissimo quanto prima approvare le leggi perché purtroppo i politici fanno il loro mestiere lo fanno bene cercando di occupare o dare delle poltronote altre situazioni che poi si contengono nelle loro sedi e anche nei consigli regionali, comunali e altri quindi io pregherei alle istituzioni al nostro consiglio regionale di quanto prima approvare questa legge regionale per quanto riguarda il vincolo paesistico che incombe su tutta la buona parte della regione campagna dei Monti Lattari soprattutto a Cava Cava è ingessata totalmente da questo vincolo obsoleto che è nato nel 1939 noi speriamo di scollegarci da questo vincolo che ci è stato posto anzi come dire proprio imperativo collocandoci collocando il comune di Cava alla costa d'Amalfi e penisola sorrentina che nulla ha a che vedere Cava di Tirreni con la costa d'Amalfi e penisola sorrentina se ron per un atto diciamo di cerniera, di raggiungimenti di questi posti e che poi parlando di paesaggio vedere solo una macchia verde non penso che possa dirsi un monte, una montagna fatta solo di quella macchia verde ma un paesaggio vuol dire che il centro oggi bisogna guardare invece a quello che è il periurbano il centro dovrebbe invece spostarsi verso le zone limitrofe dove là creare il paesaggio